Definirlo vandalismo è forse persino dare lustro ad un atto che ha più a che fare con l'idiozia nociva, pericolosa, fuori da ogni concetto di civiltà, dunque di intelligenza, nel rapporto tra i propri bisogni e i servizi che la propria città offre. Perché divertirsi lanciando una bicicletta sulla linea elettrica della stazione di Palermo, Tommaso Natale, questo è privare se stessi e la comunità di cui si fa parte di un servizio. Succede anche questo però, perché ieri la banda, anche questa definizione rischia di diventare un complimento, ha deciso di generare un caos senza senso, senza un obiettivo, causando tra l'altro un incendio che ha danneggiato la linea diretta a Punta Raisi e il pantografo del convoio, uno dei treni più capienti nella tratta tra Palermo e l'aeroporto Falcone-Borsellino. Non è la prima volta che la stazione di Tommaso Natale viene presa di mira. Nelle scorse settimane qualcuno ha lanciato degli scooter contro le porte degli ascensori, mandando in frantumi l'impianto. Adesso con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono in corso indagini per risalire al gruppo.